E allora amici, ben ritrovati in questo nuovissimo video, come state? Oggi parliamo di un aggeggio, di un accessorio, di un gear per lo studio, per l'home studio davvero davvero interessante, ma soprattutto alla portata di tutti. Ed eccolo qui, Clark Technic Mic Booster CT1. Ma innanzitutto, da dove salta fuori questa marca, questo Clark Technic? In realtà è un'azienda controllata da Music Tribe, che praticamente è una costola di Behringer. Come sapete, Behringer ormai è conosciuta da tantissimi anni, insomma, nel campo appunto dei prodotti audio, sia prodotti più accessibili, più tra virgolette cinesi, sia su prodotti appunto più professionali. Oggi vi presento Clark Technic, che è praticamente una costola di Behringer in realtà, che devo dire la verità, mi sta interessando tantissimo nell'ultimo periodo, perché oltre a produrre questi Mic Booster, che adesso appunto ne parliamo subito, produce anche dei cloni, se così si possono chiamare, di macchine analogiche, come, che ne so, il Pultec, l'1176, l'LA2A, e sono molto molto accessibili, perché parliamo di 200-250 euro a macchina, no? Mi sta venendo una gran voglia di provarli, ma devo mantenermi, ma in realtà mi piacerebbe tantissimo provarli in futuro. Se Clark Technic, se Behringer, se Music Tribe sta guardando questo video, mi vuole far provare, mi vuole mandare così per testare un 1176, un Pultec o un LA2A, io sono qui, basta contattarmi. Parliamo di questi Mic Booster. Allora, che cosa sono? È una linea di prodotti, perché c'è il CT1, che questo è praticamente il più economico, ma credo che sia anche il più portatile, quindi il più comodo da avere. C'è il CM1 e il CM2, il CM2 praticamente ha due ingressi, quindi si possono collegare due sorgenti, sia in input che in output. Si ispirano tantissimo al Cloudlifter, al costoso, al più costoso Cloudlifter, perché il Cloudlifter costa circa 170 euro, insomma, qui parliamo di 20 euro per l'entry level, il CM1 costa intorno ai 40 euro e l'altro il CM2 è 60. Quindi, a cosa servono? Sono degli amplificatori di segnale. Banalmente, vi ho sempre detto e vi ho sempre consigliato, se nel vostro home studio non c'è un trattamento acustico e non avete appunto le caratteristiche minime per magari poter utilizzare un bel microfono a condensatore, che ovviamente richiede un po' di trattamento acustico, di insonorizzazione, di sonorizzazione della stanza, vi ho sempre detto puntate su un microfono dinamico, come banalmente un SM58 che sta qui, c'è la spugna, non si riconosce, ma è sempre il 58 della Shure. Oppure l'SM7B, il famoso microfono della Shure, di cui ne parliamo sempre tantissimo, perché in realtà nasce per il broadcast, ma poi è stato riadattato per l'audio, per la musica, ci cantano dentro e continuano a cantarsi un sacco di artisti, ci registrano amplificatori, insomma ci fanno un sacco di roba con quel microfono lì, perché son pensati, soprattutto l'SM7B, ma un po' tutti i dinamici in generale, sono comunque pensati per essere usati in situazioni live, quindi in circostanze al limite, quindi tu nel live hai bisogno di un microfono con determinate caratteristiche, di certo non puoi usare un condensatore in un live, però il grande problema ad esempio dell'SM7B, ma anche del 58, ma di qualsiasi altro dinamico, comunque di un certo livello, il problema è il volume, perché son microfoni molto duri, quindi hanno bisogno di tantissimo gain, quindi o avete una grande scheda audio con dei grandi preamplificatori, come può essere ad esempio un Apollo, un Audient o una qualsiasi altra scheda audio importante, ma comunque dovete tirar su tanto gain per avere un volume decente, soprattutto per l'SM7B che è veramente molto molto duro, alzando però il gain del vostro pomelo, del vostro preampo, ora che insomma avete una Focusrite o avete un Apollo o qualsiasi altra scheda, anche di buon buonissima qualità, ovviamente più gain si dà e più rumore di fondo si alza e non c'è niente da fare, quindi come si fa ad ovviare a questo, perché comunque l'SM7B, parliamo comunque di un microfono che costa 300-400 euro insomma, no? Circa 400 euro, il 58 costa 100, è quello più accessibile, è quello che vi consiglio sempre, anzi comunque vi lascio tutti i link in descrizione, perché come sempre vi dico, meglio un buon dinamico come l'SM7B o il 58 o un Sennheiser, io amo tantissimo i Sennheiser ma sono più costosi, però anche quelli lì sono dei bellissimi microfoni, è quindi meglio un buon dinamico se non avete appunto una stanza trattata acusticamente che un condensatore che poi vi dà un sacco di problemi in registrazione e vi esce fuori una registrazione tremenda poi anche da mixare insomma. Come si fa ad ovviare tutto questo? C'è il mic booster, il più famoso è il cloudlifter, quello che si usa ovviamente negli ambiti broadcast, dove ci sono i soldini, ovviamente è il prodotto per eccellenza, no? Che serve a dare appunto boost, lo dice stessa la parola, serve a dare più volume. Clark Technic si è inventato un prodotto economico sulla scia del cloudlifter, no? E ha tirato fuori questi mic booster che sono super economici ma anche super introvabili, io comunque vi lascio il link in descrizione di Amazon ma spesso non si trovano su Amazon perché finiscono subito, però in Italia ci sono diversi negozi che li distribuiscono, strumenti musicali, su uno store, ci sono tanti negozi, basta cercare un po' su Google. Questo coso qui è molto interessante perché come tutta la linea di mic booster praticamente dà 25 dB di amplificazione di volume al vostro dinamico. E come va collegato? Ovviamente questo non lo potete collegare direttamente alla scheda audio perché non ci va, quindi con due cavi, quindi dovete avere due cavi, magari uno più corto che sta o in coda e quindi alla fine o magari subito dopo vicino al microfono, al dinamico e poi con l'altro cavo arrivate nella scheda audio. Per funzionare questo qui dovete attivare la 48 volt, la classica alimentazione phantom e quindi dopo aver fatto tutto questo collegamento avrete più volume direttamente dal vostro dinamico e quindi dovrete dare meno gain e fare appunto fare meno fatica con la vostra scheda audio, soprattutto se è una scheda audio economica o comunque insomma non di altissimo livello. Ma vi assicuro che anche se appunto avete una scheda audio importante come per esempio io che ho la pollo, questo qui vi aiuta tantissimo, ma anche ad esempio siete in una circostanza live, no? Avete un mixer audio che con tutta la sua buona volontà ovviamente non ce la fa magari a darvi tutto quel volume in più, no? E quindi questo qui anche nei live è super super comodo e anche per questo ho scelto il CT1 perché è super compatto e quindi eventualmente lo si può appunto usare anche in contesti live, quindi dove c'hai un mixer audio e sei fuori dallo studio. Quindi è meno ingombrante, più comodo. Allora andiamo in sessione e vi faccio vedere molto velocemente la differenza, no? Tra senza il mic booster e con il mic booster. E allora eccoci qua, siamo nella sessione, considerate adesso sto usando l'SM58 della Shure senza il mic booster, ce l'ho in mano qui e sulla scheda audio, sulla pollo sto dando adesso più 35, più 36 dB e raggiungo più o meno più o meno un livello intorno ai meno 10, meno 7, dipende poi ovviamente dal tono di voce, meno 12, meno 15, vedete, no? Vedete, registro anche, vi faccio vedere anche la forma d'onda di registrazione che comunque in questo momento è alta perché sto a più 36 dB, porca miseria. in realtà potrei registrare poi anche a, che ne so, a più 25, va bene? Di solito senza, quando non avevo il mic booster registravo il dinamico per le mie registrazioni live a più 25 e poi dopo ci arrivavo a quel volume con dei buoni compressori, con tutta la mia catena audio della voce. Però se non si ha tutto questo sour fare, usiamo il mic booster e andiamo a vedere come va. E allora eccoci qua, ho collegato e attivato la 48V, quindi la Phantom, collegando appunto il mic booster CT1, guardate qui che forma d'onda, ma guardate qui che volume e soprattutto vi faccio vedere la mia console di sedi appunto di, dell'Apollo, eccola qui, questa è la console dell'Apollo, come vedete sono a più 15 ma in realtà potrei andare anche, anche a più 10 e comunque il volume è ottimo perché poi se dobbiamo registrare un cantato, il livello d'ingresso, meno 12, insomma già siamo a un ottimo livello, ma se dobbiamo registrare un parlato e quindi abbiamo bisogno di più presenza della voce, quindi di un livello più alto, guardate qui, metto a più 15 sull'Apollo, prima era più 35, più 36 e insomma la differenza, la differenza è notevole, è notevole e soprattutto anche il rumore di fondo che teniamo su è ovviamente più basso e la nostra scheda audio fa meno fatica. E allora eccoci qui per le conclusioni finali di questo video, niente, non ci sono conclusioni, che da fare, secondo me per il prezzo che costa, soprattutto questo qui che diciamo è l'entry level, è il modello più compatto, più economico, dovete averlo a meno uno nel vostro home studio se usate appunto dei microfoni dinamici, dovete averlo assolutamente perché vi migliora la vita, ma soprattutto poi vi migliora poi il lavoro dopo in editing, in registrazione. Va bene amici, come al solito vi ricordo di condividere questo video, di lasciare un like se vi è piaciuto, vi ricordo che sono anche su Instagram, seguitemi su Instagram se vi va, vi lascio il link in descrizione così potete seguire praticamente in tempo reale tutti i miei progetti, soprattutto i miei progetti musicali. Ma la cosa più importante è che come sempre vi ricordo è iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui video futuri. Io torno a giocare qui con tutte le mie cose... delirio come sempre. Ciao!